Eccoci qua nel terzo video di Fun Experiment I behind the scenes che tutti volevate Allora, andiamo a schiacciare due cosine di moda Abbiamo bisogno di palloncini Il telefono, il pelosino e la nostra staffa Posizioniamo i palloncini Uno, due e tre Ok ragazzi, mettiamo via Secondo oggetto Schiacciamo questo Posizioniamo il telefono Posizioniamo i nostri vasetti Come da prassi Uno, due, tre, quattro Cestino Dal nostro amico pelosino e Fun Experiment è tutto Ragazzi, seguitici, mettete like al video E iscrivetevi al canale Mi raccomando, al prossimo behind Ok ragazzi, eccoci qua nella fase finale Del montaggio del video Praticamente abbiamo tutte le scene caricate all'interno del nostro programma Premiere Pro 2022 In questa fase noi prendiamo tutti i video Li inseriamo da qua sopra Li mettiamo qua sotto E li tagliamo E mettiamo tutte le varie funzioni Tipo questa transizione qua Cerchio Andiamo a modificare l'audio con Audition Che è un programma di Adobe Che serve per ottimizzare i suoni Dove andiamo ad annullare il suono della macchina E lasciamo solo il crunch o lo schiacciamento del video In questa maniera In questo programma è veramente pazzesco E senza non riuscire a farne a meno A meno che hai un Mac E hai bisogno di meno programmi Ma se hai Windows Conviene usare questi due programmi insieme Utilizzare questi due programmi insieme Benissimo Qua vi faccio vedere tutta la parte di montaggio Ovviamente manca la parte finale Perché la stiamo registrando adesso In questa fase qua appunto Come vi ho detto Mettiamo in posto l'audio Le scene Facciamo i tagli Montiamo tutto il video E poi esportiamo tutto Ragazzi Mi ha fatto veramente piacere Fare questo altro video E farvi vedere come lavoriamo Quindi non vi resta che mettere Un fantastico pollice in su E seguirci Iscrivendovi al canale Ciao ragazzi